un amico un tifoso su bilanello scrive troppo pessimismo troppo sei troppo disfattista forse stai preparando il terreno a ritorno di maldini per far fallire questa società e ritorno di maldini con gli arabi ma magari ma magari avessi tanto questo potere in questo momento ci fosse questa possibilità ma magari ragazzi no purtroppo no mi sopravvalutate ben ritrovati come state vi ricordo come sempre di commentare numerosi qui sotto di lasciare un bel like iscrivetevi da questa parte ti fate la campanella e iscrivetevi al mio canale personale qui sotto c'è il link grazie per chi lo farà oggi stesso arriviamo 24 mila iscritti vi aspetta non lo dirò meno però perché magari poi stanco però qui sotto nel link c'è sempre il video di mark van basten per i milanisti doc guardatelo perché ne vale davvero la pena tanti si sono anche commossi con i lacrimoni guardatelo con immagini interviste inedite chi l'ha vissuto ma anche chi non l'ha vissuto perché bisogna studiarlo su libri di storia in questo caso su youtube allora ragazzi ha parlato la gente di gabbia che dice sicuramente titolare perché è stato il migliore per rendimento insomma una cosa del genere insomma non poniamo limiti alla crescita dei giocatori però ecco mi sembra che sia andato un po un po oltre il migliore degli ultimi sei mesi questo è vero è vero non un mistero non è un caso secondo me che sia tornato diverso dopo aver lavorato in un contesto e con un attore diverso poco qualcuno ieri diceva hai visto che non era colpa di pioli ma colpa di cardinale colpa di cardinale ma colpa anche di pioli non cambio idea sul campo detto questo una formazione titolare metterei gabbia perché è stato il miglior difessore degli ultimi sei mesi è bravo sicuramente titolare poi mettiamo gli altri quindi mettiamo gabbia pavlovich così appunto il suo agente tullio tinti che ovviamente tira acqua a suo mulino però gabbia tornerà molto utile sperando cresci su quali standard o perché no migliori perché avere un panchinaro del livello degli scorsi sei mesi italiano milanista di milanello perché no e molto sorpreso mai sinceramente avrei scommesso su questa esplosione di gabbia che per me non è titolare ma nel milan ci può stare se poi continua così o migliora ulteriormente a maggior ragione allora ragazzi un po di notizie su emerso royal da casa milan o meglio in questo caso dal quartiere generale in america ma anche da casa milan perché moncada è rimasto qui per fare mercato trapela ottimismo ok quindi tutto lascia intendere che emerso royal per il quale non c'è grande concorrenza anzi forse non ce n'è c'era stato un club arabo che si era interessato ma non era interessato tutto lascia intendere che l'affare si farà però ripeto filtra ottimismo poi qualcuno dice il milan non dice nulla se non ve lo inventate voi giornalisti eccetera 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 va bene non è mai esistita la trattativa zirze non è mai esistita la trattativa fofanà al milan interessa royale interessa palovici eccetera eccetera basta crederci a questo perché magari fa comodo a una cosa una cosa perché l'altro giorno ho un po batti piccato con uno di voi quando volete criticare un giornalista criticate il giornalista o i giornalisti ma non usate il termine giornalaio perché giornalaio è un lavoro dignitosissimo che rappresenta categoria ti vende giornali che non si deve vergognare di nulla cioè utilizzare il termine giornalaio per offendere i giornalisti non è una cosa tanto bella quindi è una cosa che spero possa passare perché a me non piace tanto ma non per i giornalisti che è la teoria della quale appartengo ma per i giornalai perché il giornalaio colui che vede i giornali ce ne sono sempre meno purtroppo però è una cosa lavoro rispettabilissimo non deve essere utilizzato per offendere qualcun altro così si offende il giornalaio non il giornalista detto questo il minan su emerson royal c'è c'era poi non c'è stato ritornato quello che trapela da dal minan e che dovrebbe voler dovrebbe essere necessario un'altra settimanetta qualcuno dice addirittura dieci giorni come tempistica e io sorrido perché dico ma caspita sei rispettato questa tempistica poi se lo prendono oggi meglio anche se a me non fa impazzire e neanche alla stragrande maggioranza di voi però dico ma cosa dovrà mai succedere in una settimana barra dieci giorni ma prenditelo dove averlo già preso ora ci sei tornato ma prenditelo cosa cambia in una settimana barra dieci giorni questa cosa mi fa letteralmente impazzire cosa succede in una settimana il prezzo si abbassa ma perché ma soltanto al minan vedo queste cose perché ribadisco fino all'infinito manca un direttore sportivo abile capace abituato a trattare senza inventarsi cose strane offro poco così troviamo metà strada però aspetto dei giorni poi faccio credere che non sono più interessato poi ritorno ma aspettiamo altri dieci giorni davvero o sono stati tutti i polli prima i dirigenti a fare mercato diversamente e sono scienziati nostri oppure invece diventa inventare la formula magica si adeguassero alle consuetudini di calcio mercato che ti portano a casa i giocatori non te li fanno saltare poi proseguendo nel video ragazzi c'è una situazione particolare legata a calabria su calabria io più volte ho parlato qualcuno poi ogni tanto si è risentito qualcun altro invece è andato magari un po oltre per me calabria è uno di noi uno di milanello però non basta per essere un giocatore da milan io credo che calabria e milan ci possa stare come alternativa non come titolare e spero che nessuno si offenda perché non sto offendendo nessuno non basta avere il senso di appartenenza lo dicevo anche ieri di adli che al milan dentro però non basta quella cosa lì poi il valore quello che fa la differenza meglio se c'è valore appartenenza è una qualità l'appartenenza calabria uno che fa il suo però è un ruolo quello in cui bisogna migliorare poi non sono sicuro che si migliori o si migliori così tanto con emerso royal cioè se tu devi cambiare cambia per fare stato di qualità che tu lo garantisca emerso royal è tutto da vedere però con calabria sta finendo male notizia le scorse ore che lo strasburgo si interessa a lui dovesse sfumare il loro principale obiettivo inizia a muoversi qualcosa ecco calabria è un capitano è il capitano oggi sono stati capitani migliori sicuramente sì ma oggi il capitano il capitano ha un valore ecco il milan qualcuno sarà felicissimo qualcuno invece sarà un po più dispiaciuto e mina sta mandando a scadenza suo capitano non sta avendo un dialogo col suo capitano legittimo o irrispettoso ognuno ha il proprio sentimento la propria sensibilità lo dice uno che calabria non lo vuole vedere titolare lo vuole vedere come riserva però c'è modo e modo il milan secondo me sta facendo capire calabria nel modo meno elegante che deve prendere da andare comunque milano vuole rinnovare il contratto stai facendo partire adesso o la prossima estate un giocatore che comunque è italiano è milanista senso di appartenenza perderesti queste qualità ma io non lo voglio come alternativa perderesti ulteriore appartenenza senso di appartenenza prima c'erano gli ambrosini maldini oggi c'è calabria piaccio pure no e tu comunque stai un po ignorando questo aspetto a torto o a ragione legittimo irrispettoso ognuno poi si fa la propria idea però sicuramente in questo momento calabria non è contento qualcuno dirà chi se ne frega però ecco forse c'è modo e modo magari questo non è il modo migliore si può dialogare in maniera costruttiva per trovare una soluzione insieme e in questo momento il dialogo non c'è emerso royal sarà un salto di qualità boh lo spero credo che non possa fare peggio di calabria calabria secondo me è lì è lì proprio sul 6 a volte meno a volte un po di più ma mai sul 7 7 e mezzo detto questo real vedremo poi vicenda yusuf ofana ragazzi ancora lui yusuf yusuf ofana cosa succede succede che anche qui il modo superante quello senza fretta però in questo caso la fretta non è cattiva consigliera è ottima consigliera visti anche i precedenti mia dovrebbe prendere di petto la situazione e uscirne con il giocatore oppure uscirne subito e andare su altri giocatori il giocatore inizia a essere un po irritato da questa situazione attribuendo le colpe un po al monaco che gli aveva promesso l'anno dopo di farlo partire lo scorso anno e un po al milan che lo vuole lo vuole vuole lo vuole ma non va a portarselo a casa in questo caso rischia di venire meno il sì al milan e rischia che lui possa accettare altre offerte anzi a quel punto diventa anche probabile se poi le offerte non ti arrivano dalla canica t con tutto rispetto ma la messa sede united allora vedi cosa è successo per zirze che voleva rimanere in italia sia al milan e poi andato là quindi il giocatore è indispettito è seccato e in questo senso va detto che non ci sono contatti tra il milan e il monaco ormai da 48 ore da un paio di giorni pieni questo non è un bel segnale poi sappiamo che i nostri sono giocatori di scacchi aspettano strategico però poi torni per me questa cosa non paga mai non vorrei che piano piano il minas si stesse defilando da fofana che anche qui non è che l'obiettivo numero uno poi vai sempre da qualcun altro che un'alternativa magari l'alternativa è meglio del piano a è successo in mille casi ricordo l'inter quando fa quell'anno magico doveva prendere deco ricordate poi però prende schneider e anche in altre situazioni magari anche noi adesso non mi viene in mente detto questo è tutto fermo tutto tace proprio come zirzeo a un certo punto però ci fanno sapere che resta il primo obiettivo però passeranno giorni ecco mi sembra il 2 agosto teo e menial saranno da allenarsi a milanello il 2 agosto tra una settimana esatta entro una settimana la fare dovrebbe o farsi o saltare è un silenzio come si dice assordante è uno simolo è una attesa che mi fa sentire un po di puzza di bruciato e non mi sembra una cosa comunque normale se hai un problema devi risolvere subito non devi far aspettare settimane 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 perché il problema rimane e diventa anche più grosso anche perché dopo dovessi saltare fofana tu devi andare a prendere un altro giocatore ma il club da cui vai sa che tu sei in difficoltà sa che tu hai problemi e quindi detterà le linee guida della trattativa non sarai tu a prenderlo per un orecchio e portarlo a spasso sarà lui a tenerti lì con le sue condizioni quindi tu stai aspettando magari spavere qualcosa per poi magari andare da qualcun altro che non ti convinceva pieno pagandolo anche di più o tutto il valore pieno magari anche in maniera abbondante non lo so non lo so vediamo che cosa succede e ci fosse un direttore sportivo le cose sarebbero molto diverse io vedo con sana invidia giuntoli lavorare fare forse la juve sta facendo anche troppo forse non avrebbe bisogno di tutta questa rivoluzione però ragazzi vuole uno lo se lo porta a casa punto un altro e sono giocatori anche di livello vedi Douglas ecco la fotografia lo ribadisco la fotografia plastica di avere un direttore sportivo e non averlo è Turan preso in dieci giorni due settimane scadenza 2025 e fofana non preso in mesi scadenza 2025 pure lui questo è l'amara verità poi ragazzi davvero il calciomercato deve essere un momento di sogno per noi è diventato un momento di arrabbiatura il problema è che poi un anno è lungo e un anno è lungo se inizia male e prosegue male speriamo che sia invece positivo c'è uno di voi che oggi crede che il Milan possa vincere lo scudetto poi è un giochino perché non sappiamo che squadra avremo qualcuno ci crede? invidio questa sana sana follia barra ottimismo commentate e lasciate un like iscrivetevi iscrivetevi al mio canale personale e guardate i video post casi di OneBuster perché adesso c'è il weekend avete magari un po' più di tempo è bellissimo ne vale la pena un abbraccio ciao